La sicurezza dei dati dei nostri clienti e la tutela della loro privacy sono la nostra priorità. A tutti coloro che sceglieranno fatturazione elettronica di Aruba, garantiamo il massimo rispetto di tutti i contenuti, dei dati e delle informazioni inserite, che saranno sempre sotto il diretto controllo dei soli titolari del servizio. Nemmeno noi di Aruba avremo accesso ai tuoi dati, se non a quelli strettamente necessari per l'erogazione del servizio, e ti assicuriamo che questi non verranno né utilizzati né ceduti a terzi per nessun motivo. Aruba è una società italiana con sede legale e data center in Italia. Questo significa che tutti i tuoi dati verranno gestiti in conformità alle leggi italiane ed europee. A questo aggiungiamo la sicurezza delle nostre infrastrutture. Gli elevati standard tecnologici che caratterizzano i nostri data center e le numerose certificazioni per il rispetto di standard di sicurezza logica, fisica e organizzativa fanno di Aruba uno dei luoghi più sicuri per la gestione dei tuoi dati. Aruba è certificata ISO 27001, una certificazione specifica nell'ambito della sicurezza dei dati ed è un Trust Service Provider, a norma EIDAS. In quanto Certification Authority, abilitata alla fornitura di servizi come PEC, SPEED, firma digitale e conservazione digitale a norma, è sottoposta a procedure di certificazione e accreditamento ed è controllata da specifici organismi di vigilanza. Adesso che conosci le nostre politiche di sicurezza e privacy, vai al prossimo video per saperne di più. Grazie a tutti.